Da giovedì 9 a domenica 12 agosto Ripalta di Cartoceto è tornata ad animarsi con il Borgo in festa. L'evento organizzato dall'associazione Ripalta e i suoi amici che anche quest'anno ha messo in campo quattro giornate dedicate alla cultura, al buon cibo e al divertimento. Con piatti della tradizione, balli, intrattenimenti per bambini e i gemellaggi rinnovati con l'associazione Montegiano C'è e la cooperativa Tre Ponti, si è conclusa con un grande successo di pubblico anche questa nona edizione dell'evento. Presidente, il sole e il bel tempo è stato vostro amico, quattro giornate di grande festa. Questa festa è andata benissimo, abbiamo avuto una grande affluenza di tante persone, tante che ci hanno fatto complimenti, siamo stati bene, ci sono trovati bene in tutto, dalla cultura all'enagostronomia che abbiamo spinto oltre. Il tempo è stato clemente, con noi ci ha tenuto bene tutti i tre giorni, purtroppo ci dispiace ma finisce, come tutte le cose belle, finisce presto. Quante persone hanno lavorato in questo evento? Per questo ringrazierei tutti i volontari che saranno circa 60-70 persone, tra i bambini di 8 anni, su 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 su, per tutte le età, figli, genitori e sono fantastici. Proprio oggi la figlia di un mio amico mi chiedeva di avere la maglietta bianca, ha 8 anni. Una grande soddisfazione? Immensa soddisfazione, poi tutti che ci aiutano, associazioni amiche, protezione civile, proloco, comune, consiglio regionale delle marche che è anche lui, e ultimi tutti gli sponsor che invece ci sostengono economicamente. E' l'uomo che dirà, soltanto verità, sei tu la mia famiglia.